Ciao a tutti, oggi registreremo Rocket League Scrauso con il mio amico che è campione mondiale di Rocket League Infatti adesso ce lo dimostrerà lui Perfetto Ciao ragazzi, questo è anche il mio video Siamo registrati Il mondo è suo Perfetto, cerchiamo una partita perché è l'unica cosa che riesco a fare in un gioco E la nostra qualità audio è veramente scarso Perché il budget è quello Anche se io ho una PS5 con due controller E io ho il PC da 1000€ con il microfono legato Giochiamo a Dignitas contro Goldexpress Ovviamente il nostro club si chiama Comunovero perché non abbiamo fantasia Esatto, vai te Ok Ok, mi sentite Perfetto, prima vittoria E come avete visto siamo molto forti Su Rocket League Esatto Deve andare Pasquale qua, deve andare Pasqui 0-12 Pasqui 0-12 mi senti? Ricevuto, ricevuto Perché noi siamo i migliori Campioni del mondo Io non capisco perché intanto Cioè, devono ancora entrare Però, ecco Secondo vittoria di fila Ragazzi siamo troppo forti Troppo forti Ma chi ci ferma? Ragazzi attenzione perché la terza vittoria si avvicina Eh, non è detto però Pasqui Poi il Real Madrid, Mario Pelu E poi c'è Mario Va bene, giochiamo contro la Spagna Praticamente Italia-Spagna inizia ora La dimostrazione del futbol Calcio! È ovvio Piero Il primo gol mio Con una giocata fantastica Ragazzi avete visto come stiamo giocando Siamo i campioni mondiali Siamo i campioni mondiali Campioni mondiali Vieni, levasi però È il primo mondo nostro È ovvio ragazzi Siamo troppo forti Guardate lì Tu Non stai giocando Sei sull'ala Lavor Eh, attenzione Attenzione La può mettere Eh, vabbè In Africa Ragazzi se vedete un pallone in Africa ce l'ho ricordata Grazie Grazie ragazzi Lo vogliamo bene Abbiamo zero iscritti No, 136 Ah, vabbè Lui 136 Io zero Porco Maiale No Oh Ma le no Questo Questo è bombardamento No, intanto abbiamo preso palo Oh, che giocatore È che diventiamo i giocatori più forti di Rocket Eh, titolo video Non spoileriamo Però io già so come chiamarlo Oh, e attenzione Perché si sblocca Il campione mondiale dopo Alessio Trovara Eh, vabbè Ci sta Alex Trovara Guardate il mio punteggio Quanto è alto Non sobaltete quello di Mario Pelli Mario Pelli Forza Madrid Alla Madrid Alla Madrid Attenzione alla corsa interlocutoria di Mario Palla in mezzo Arriva Pasqualino Con un grande colpo di sconti Detto anche Cristian Cabasele Oh no Dove sta la palla Pasquale va Ma che cosa stiamo facendo Vai, è tua Metti in mezzo Crediamoci Ci vuole grinta E arriva E arriva il gol Il secondo zero Incredibile signori Mi sta mangiando come se non ci fosse un domani Guarda Io una volta ho fatto 26.000 di ping Ragazzi Rimborsatemi la connessione Mille euro di pc Signori Guardate qui Alex Trovara Che giocatore Ma questo me Oh Che è successo? Si guasano le fischelle in tribuna Per questo Oh Eumea Bene Ma che cosa ragazzi Alessio il football provara Alex Comunque noi non ci siamo presentati Io sono Dani E lui è Pasquale Perché Alessio Alessio è il nome d'arte Alessio è il nome d'arte Attenzione Questa giocata in due Alla Inazuma e Leden Alla Oli è ben Gigi Attenzione Adesso trovarà con la sua cattola Ma che ring che gli ho fatto E facciamo calcio Chiaramente mi arriveranno notifiche solo Mario spicca il volo E' chiaro E' chiaro E' chiaro Ma secondo voi Non è chiaro Ma è qui E per gli amici Amici Alex Alex Dove sto andando? Ma che so Alex E insegna un po' Alex Scusami Come si gioca Rocket League E facciamo calcio Guardate un po' Il mio punteggio Sono al più alto di tutti Però Mario Pellu Rimane il più forte Quanti punti? 44 Gatto 44 No Sì 44 Avevo letto 48 Oh Vai uomo Ti rubo il gol No mi sa che il gol lo fa nell'altra parte No perché è la porta sbagliata Eh che secondo me Attenzione che giocatura Eh avete visto le mie giocate da Rocket League Player Mario 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 non si fa così Attenzione La metto in mezzo Ad Alex Non ho turno Cos'è la porta 2 E a mani Oh io me ne vado in Messico Io Io gli faccio bruciare la polvere Oggetto Carbonara No non è vero No la tagliò Perfetto Eh questa è la prima partita Sì